A chi dedico ormai questo libretto di cianfruscole, di cianciafruscole giocondo, di cianciafruscole giocondo schietto, che uscendo in pubblico ben ben impolito dall'arsa pomice mostra il vestito, a te, Cornelio, accuso dir sei, can qualche grazia agli scherzi miei, e che fra gli italiani scrittori osasti di tutti i secoli spiegare i fasti, con ardir unico solo in tre carte, e che giudizio per Dio, che arte, qual che esso sia, si dunque tu accetta questo libercolo che a te si spetta, e tu fai, Vergine Patrona Diva, che più di un secolo perenni e vivi va. Ovviamente non gliene fregava niente che vivesse di più di un secolo, ma ci sono, come anche in Orazio, c'è sempre un mecenatismo o una connessione, per cui almeno nella prima poesia del libro viene ringraziato, in modo anche che oggi forse giudicheremo sperticato il dedicatario dell'opera.